Era supina con il volto verso l'alto, immobile, appena cominciato a toccare per vedere il polso ha cominciato a muovere la testa e quindi ho visto che era ancora viva. Chiaramente dalla posizione del corpo la pozza di sangue mi sono reso conto che era caduta dall'alto e ho pensato subito ad allertare il 118 ma già mi avevano preceduto dei condomini. La scienza ha confermato quello che la logica aveva suggerito già domenica scorsa, il volo di Marina Ingrilli dal balcone dell'appartamento al secondo piano della palazzina di piazza Roccaraso non è stata una caduta accidentale e nemmeno un suicidio. A spingerla giù dal balcone è stato il marito Fausto Filippone, le prime indiscrezioni trappelate sull'esito dell'autopsia sul corpo di Marina Ingrilli eseguita all'obitorio di Chieti dal medico legale Cristiano Dovidio non lascerebbero spazio a dubbi. Traiettorie e tipo di lesioni indicano con sufficiente chiarezza che Marina Ingrilli è stata spinta forse con l'ausilio di una scala trovata nell'appartamento di Filippone, solitamente affittato agli studenti. C'erano dei condomini, c'era lei ma da queste parti c'era anche il marito della donna? Lei lo ha visto? Allora sono rimasto diversi minuti da solo, dopo aver assicurato l'intervento del 118 ho notato una persona che girava qui intorno a me, non è che si è avvicinato subito al corpo, tant'è che io pensavo che fosse uno degli spettatori e gli ho chiesto se sapesse cosa era successo e lui mi ha risposto è caduta dal secondo piano, una risposta così, io ho pensato subito ma... Era il marito della donna? Non lo sapevo, io non conoscevo... Ma adesso può dirlo, era il marito? Era il marito perché poi ho chiesto ma conosce la signora e lui mi ha risposto è mia moglie, quindi... Io comunque prestavo attenzione alla signora che si agitava sempre di più, cercava di alzarsi addirittura, cominciava a sanguinare vistosamente, poi lui invece era distante, passeggiava nervosamente contro il muro qui nel recinto, farfugliava qualche cosa ma non è che urlava o si disperava, ecco... Poi sono arrivate le forze di polizia? No, poi ho fatto una cosa che ho notato subito molto strana, mi ha chiamato lui e mi ha dettato un numero telefonico e mi ha detto vado a prendere mia figlia, a me la cosa è sembrata molto strana e gli ho detto tu resti qui finché non arriva il 118, lui non ha risposto, è rimasto lì sempre muovendosi nervosamente, poi è arrivato il 118, ne sono arrivate due di ambulanze insieme a una volante della polizia. Io a questo punto mi sono disinteressato a lui ma seguitava diciamo a vedere la signora e assistere i soccorsi. Lei ovviamente è un medico e si era reso subito conto che le condizioni della donna erano molto gravi? Sì, sì sì, sicuramente c'era una frattura molto grave del cranio, addirittura la signora a tratti urlava, però tra un urlo e l'altro era silenziosa, era ferma, immobile, io la chiamavo perché poi al marito ho chiesto come si chiamava, mi ha detto il nome, Marina, io chiamavo Marina per vedere se dava qualche segno ma purtroppo lo sguardo era sempre fisso in un'unica direzione. Cosa poi è accaduto dopo i soccorsi alla donna e al vaglio degli inquirenti? Di fatto però nessuno ha impedito a Filippone di andare a prendere la figlia a casa dei nonni a Pescara, nemmeno la pattuglia della polizia, che era arrivata assieme alla seconda ambulanza del 118 in piazza Roccaraso, una circostanza che sta lasciando sgomento il fratello di Marina Ingrilli, Francesco, che a Lanza ha dichiarato faccio fatica a credere che questo possa essere sfuggito ad una pattuglia di polizia. Filippone quindi ha potuto completare indisturbato quello che sembra a tutti gli effetti un piano disegnato a tavolino per distruggere la sua famiglia e se stesso, arrivando sul viadotto Alento della 14 a Francavilla e lanciando nel vuoto Ludovica, prima dell'epilogo suicida dopo sette ore di trattative con le forze dell'ordine. Resta un mistero la motivazione, potrebbero esserci motivi personali interni alla psiche di Fausto Filippone provato dalla morte della madre, a cui era molto legato, oppure motivazioni legate al lavoro o ancora un movente passionale. C'è circa un 10% di persone che soffrono di patologie psichiatriche, cosiddette nascoste, che non riescono ad aprirsi con i medici di famiglia, con i familiari, non lo fanno vedere, sono quelli che magari sono un po' cupi, sempre preoccupate, oppure anche allegri, vuol dire che è un altro tipo di patologia, che poi improvvisamente per un qualche cosa commettono queste atrocità. Che cosa può essere accaduto in quei secondi anche alla bambina? Secondo lei si è resa conto di quello che stava per accadere? Perché molti si chiedono, probabilmente c'è stata o non c'è stata una reazione di questa bambina che poteva essere forse anche sotto shock. Certamente la bambina ha vissuto attimi di terrore notevole, perché fidarsi del padre e poi fare questa orribile fine, penso che non era sicuramente un gioco per lei, qualcosa deve aver capito. Intanto la magistratura ha concesso il nulla osta per i funerali di Marina Ingrilli e della figlia Ludovica. Probabilmente le sequie ci saranno venerdì in maniera separata rispetto a quelli di Filippone.